Bene cari amici, buona giornata a tutti, ci troviamo nella magnifica terra della Barbagia, precisamente a Sarule, e a Sarule voi cari amici dovete sapere che c'è un panificio storico del 1969 dove si produce del pane ottimo. Sarule è in provincia di Nuoro, nella Barbagia e a parlarcene sarà proprio il titolare di questa azienda che produce il pane da quella età storica di cui parlavamo. Grazie signor Vera Bonario che adesso ci parlerà di questo pane. Buonasera, noi siamo un panificio di pane Crasau, praticamente ha iniziato il lavoro mia nonna, ha proseguito, è stato molto intuito mio padre, ha proseguito la sua opera e dopo la distanza di anni abbiamo incrementato sia come personale che come produzione, sempre comunque tenendo la tradizione, l'innovazione, abbiamo dei prodotti, sicuramente il nostro cavallo di battaglia è il pane Crasau, dal quale insomma facciamo due tipi di prodotto, sia il grosso che quello fino. Poi abbiamo il cocone, facciamo un tipo di pane, quasi una spianata, appena più grossa e della pasta fresca. Bene, signor Canario, una delle manifestazioni dove avete la possibilità di scendere in piazza e quindi al di là del vostro edificio dove producete quotidianamente il pane è appunto la manifestazione importante autunno in Barbagia. Che date praticamente diamo ai nostri telespettatori per passare anche nel vostro paneficio? Allora, si svolgerà il 19 e 20 settembre a Sarule, vi aspettiamo numerosi, sicuramente troverete degli ottimi prodotti da gustare e sicuramente anche della ospitalità. Bene, grazie signor Canario, la signora Vera vi aspetta a Sarule in provincia di Nuoro per autunno in Barbagia al proprio paneficio. Grazie e buona serata a tutti.